Siamo all'interrogazione numero 3663 dei deputati Tullo ed altri concernente lo stato di avanzamento dei lavori del terzo valico dei Giovi e iniziative per accelerare la realizzazione di tale opera strategica. Il deputato Matteo Mauri ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario ed ha un minuto. E ora l'intervento del Partito Democratico. Un saluto anche ai rappresentanti del Governo e al Ministro Lupi. Io vorrei illustrare anche con forza una necessità che è quella di avere chiarezza della situazione rispetto ai lavori sul terzo valico dei Giovi. Quello che da un lato mette in collegamento la Liguria con la pianura padana, la Lombardia e Milano ma soprattutto rientra anche dentro un'opera più complessiva che conosciamo bene che è quella del corridoio che arriva fino a Rotterdam. Vorrei capirlo perché da un lato sono ormai diversi anni che sono stati autorizzati i lavori e dall'altro c'è un'esigenza a maggior ragione di carattere economico e di competitività del sistema che necessita, io credo, questo come altri interventi ma questo in maniera prioritaria. Dovessi pensarne uno a livello nazionale sarebbe questo. per il sistema, per l'economia e per evitare che anche i lavori che gli svizzeri stanno concludendo a nord con i vari trafori non abbiano l'effetto contrario, cioè non facciano, come dire, da capo che risucchia la produttività di un buona parte del sistema produttivo del nord e non invece un elemento di collegamento a nostro favore, così come sarebbe molto, molto importante per il sistema della portualità, in particolare quello di Germania. Per questo vorrei chiedere con precisione lo stato di avanzamento dei lavori e l'impegno del Governo anche sul fronte economico. Grazie. Ringrazio il Ministro Lupi a facoltà di rispondere. Ringrazio gli interroganti perché anche su questo tema permettono al nuovo Governo Renzi di precisare con forza e con concretezza quali sono le priorità nella realizzazione dei grandi asset infrastrutturali del nostro Paese. Il terzo valico rappresentava e rappresenta una di queste priorità, perché non è solo la priorità della regione Liguria, non è solo la priorità della regione Lombardia o del nord del Paese, è una priorità fondamentale per l'asse, per uno degli assi più importanti d'Europa, quello che da Rotterdam collegherà Genova. Ed è evidente che cosa rappresenta. Lo dico anche a chi ci sta ascoltando e ai colleghi parlamentari. Qui stiamo parlando degli asset del territorio più importante e più produttivo dell'intera Paese Italia, ma dell'intera Europa. Ed è la grande sfida che avviene nell'integrazione tra il sistema portuale e il sistema dell'alta velocità e trasportistico e delle merci in Europa. I mari del nord e i grandi porti del nord collegati con i grandi asset strategici portuali del nostro Mediterraneo. Quindi, indipendentemente dai pareri personali che possono essere liberamente espressi, la volontà del Governo è quella non di mettere in discussione, ma di accelerare il più possibile la realizzazione del terzo valico, passando dalle parole ai fatti. Secondo punto, allora. Come continuiamo a muoverci? Noi abbiamo riconvocato intorno al tavolo, nel precedente Governo, letta la continuità del Ministro può garantire lo sviluppo delle azioni, un tavolo tra i soggetti interessati, ferrovie dello Stato, il Consorzio, che è quello che deve attuare i lavori, e le istituzioni, in particolare Regione Piemonte e Regione Liguria. Abbiamo messo a disposizione le risorse necessarie, 1,9 miliardi di euro per procedere nei lavori. La settimana pro abbiamo deciso un piano straordinario di avanzamento dei lavori che deve essere puntualmente presentato e aggiornato al Governo. La settimana prossima saranno convocati, è già formale, un tavolo per l'aggiornamento, non della rimessa in discussione della strategicità del terzo valico. È così e sarà così, anche perché questo compete al Governo. Ad altri soggetti compete l'attuazione della volontà dei governi e l'attuazione delle volontà europee. Non ci si scosta da questa posizione. Quindi, al tavolo della settimana prossima, RFI, Regione Liguria, Regione Piemonte e Consorzio che dovrà attuare l'opera dovrà presentare, dopo i primi due mesi, tre mesi dall'ultimo incontro, a che punto siamo con lo stato di avanzamento dei lavori, il versamento dei SAL. Abbiamo chiesto al Consorzio di mettere anche tecnologie nuove per recuperare il tempo perduto, in modo che nel nostro Paese, permettetemelo, si passi finalmente dalle continue discussioni alla realizzazione concreta delle opere, anche poche, ma che noi riteniamo fondamentali e indispensabili per il nostro Paese. Stiamo accelerando sulla realizzazione del terzo valico dei giovi, ha detto il Ministro Lupi, che ha annunciato la convocazione la prossima settimana di un tavolo per l'aggiornamento dei lavori tra Ferrovie italiane e gli altri soggetti interessati, le istituzioni delle regioni Piemonte e Liguria. Ha detto ad alcune parole usate dall'amministratore delegato di Ferrovie, che noi stimiamo per il lavoro che ha fatto e sappiamo anche essere persone intelligenti e competenti su 1.500 chilometri, perché di questo si tratta, quando parliamo del corridoio Genova-Rotterdam, perché di questo si tratta, 150 sono quelli che rappresentano Genova-Milano e solo 50 è l'opera del terzo valico, che serve per la mobilità delle persone, ma soprattutto delle merci. Già il collega Mauri ha parlato della capacità degli svizzeri di correre più che noi, le porteranno ad avere opere complete tra il 2017 e il 2019, che consentiranno dalle 22,4 milioni di merce di passare a 55 milioni di merce che verranno trasportate su ferro e il rischio, guardate, quando si parla di economia del mare, giustamente si guarda all'acqua, ma bisogna guardare anche alla terra, perché se la capacità degli svizzeri di penetrare nel nostro Paese sarà così forte, ci potrà essere anche la scelta di qualche operatore, grandi player mondiali del commercio su acqua, che potrebbero scegliere la ruota artica e non scalare più i nostri porti. Quindi siamo pienamente soddisfatti e chiediamo al Ministro di continuare a vigilare su quest'opera strategica, appunto, per il Paese e non per un pezzo di territorio. Allora, ringrazio, passiamo.